E Wonga in questo momento è il tuo pivot Ed è un bel andare come pivot Mettere il pivot di partenza Che possa sempre permettersi un tipo di difesa del genere No, direi che non si può praticamente mai permettere un tipo di difesa Dall'altra parte, Mavris che stanno tirando 8 su 13 L'ultimo tiro sbagliato era un altro di quei tiri ad altissima percentuale per Novitski Ecco, è tornato Joan Howard, rimessa di Nash per Hardwich Lavora proprio contro Travis Best Uscita e taglio di Novitski Che poi ributta fuori per il tiro Questa sera, serata dispari Ormai post alto per Jalen Rose Che smista a piacimento, si è visto di tutto Ordinari che non ci sentiamo ormai di utilizzarli Questi canoni ordinari Buonissima giocata per Hardwich Taglia Bender, basta anche un canestro da due punti Per l'Indiana Pacers Si va proprio da Bender che tocca il tabellone La palla